Musica Benvenuti al TG10, l'apertura del telegiornale, oggi la dedichiamo alla pulizia delle zone di campagna nei pressi della spiaggia di Contrada Bulala a Gela, all'opera i volontari della sezione Frigia di Catania che stanno operando in forma gratuita e volontaristica anche con i propri escavatori. Si sono dati appuntamento in aperta campagna tra le Contrade di Piano del Signore e Bulala in prossimità del mare. Loro sono i volontari del reparto di ricognizione territoriale. Questa mattina hanno ripulito la zona di rifiuti di ogni genere. La sezione nautica dell'ecosezione Frigia di Catania, dove avuto il convinto via libera da parte della Giunta, sta operando in forma gratuita e volontaristica con i propri escavatori. È una zona eccezionale, molto bella, è una zona anche piena di storia e quindi lasciata un po' così abbandonata non era una cosa molto dignitosa sia per noi come associazione ambientalista e neppure con il grande aiuto dell'amministrazione comunale che ci sta sopportando. Il Comune di Gela sta collaborando mettendo a disposizione due casse scarrabili. Anche per gran parte di questi rifiuti sarà praticata scrupolosamente la raccolta differenziata. Molte persone che vengono perché proprio ci credono a vivere in un mondo più pulito e decoroso. È sicuramente molto più difficile pulire che riuscire che invece sporcare. Quindi il mio appello va a tutte quelle persone che hanno considerato quest'area non un'area pregiata dove tutti possono venire ma una specie di angolo dove nascondere rifiuti, un tappeto dove mettere rifiuti sotto e che nessuno magari se ne poteva accorgere. Quindi il mio appello è quello di essere primi noi, adesso gelesi, ad essere vigili che questa zona, come anche le altre zone del territorio gelese, possono rimanere. Chi ama la propria terra non può permettere di sporcarla. Sicuramente chi fa questi atti non ha né la sensibilità, né il cuore, devo dire che non è nemmeno si può chiamare degno di essere un cittadino gelese, un cittadino del mondo. Qua oggi sono venute molte persone che non sono nemmeno di Gela, persone che sono anche fuori dalla Sicilia, che sono venuti perché credono che il mondo, vivere in un mondo più pulito è sicuramente molto più dignitoso e molto più decoroso. Quindi grande lavoro per la pulizia ma credo che adesso tocca a tutti noi riuscire a mantenere questo luogo come deve essere, ovvero sia pulito. Entusiasti dell'opera di pulizia avviata anche gli imprenditori agricoli, il quaziente ricadono nella zona. E questa mattina il vice sindaco Simone Siciliano ha inaugurato la terza isola ecologica della città nei pressi della chiesa Sacro Cuore. È stata anche l'occasione per fare il punto sul livello raggiunto in tema di raccolta differenziata. È possibile cominciare a dare i primi dati ufficiali del miglioramento della raccolta differenziata che sono avvenuti nei primi 20 giorni dall'applicazione dell'ordinanza. Praticamente si è passato da una media del 30% a una raccolta differenziata che ha raggiunto il 41,34%. Questi sono i dati ufficiali che vengono fuori da formulari di conferimento dei rifiuti differenziati nelle piattaforme dedicate. Oggi, dato non ufficiale, la percentuale è aumentata ancora. Spero che possa servire da stimolo ai cittadini per migliorarsi. A fine settembre comunicheremo il nuovo dato ufficiale che vi posso assicurare alquanto piacevole per tutti perché questo qui porterà nel breve tempo a poter rimodulare le tariffe perché fondamentalmente aumentano gli introiti dalle percentuali dei materiali differenziati. L'isola ecologica avviata oggi qui di fronte alla chiesa del Sacro Cuore in un'area che era diventata una discarica pubblica abusiva proprio per dare un segnale ai cittadini facendo rimuovere dal pensiero comune che ci sono delle aree in città che possono essere utilizzate come discariche. L'isola ecologica servirà come già utilizzata nelle altre parti dalla mattina alle 8, alla sera alle 18, dal lunedì al sabato. Servirà per informare e formare i cittadini per poter portare i rifiuti differenziati e adeguare il proprio comportamento per poi arrivare anche in queste zone al porta a porta integrale che è già in vigore. Chiediamo gentilmente a tutti coloro che vengono in ufficio a reclamare perché l'immondizia non viene ritirata. Ora abbiamo l'isola ecologica qua all'interno del quartiere. Quando avete qualcosa che non ritiro, non siete pregati di venirla a concludere qui, che ci sono delle persone a vostra completa disposizione per far sì che la differenziata venga posta nel posto giusto. Quindi diamoci da fare e dateci una mano d'aiuto affinché tutto questo avvenga anche perché se tutto ciò va così come noi crediamo il prossimo anno la nostra bolletta sarà meno cara anche perché il Comune, come ben sapete, non è che mette la tassa e ha un introito. Il Comune mette una tassa in base alle spese che sostiene quindi meno spese dato che il riciclo può portare soldi al Comune, meno spese da parte del Comune, meno costi per noi. Quindi aiutiamoci a vicenda. Disaggidrici in vista a Gela, a causa di lavori di manutenzione dell'acquedotto Ancipa e Gela-Aragona, da martedì 20 a giovedì 22 settembre non ci sarà distribuzione nelle zone di Scavone Alto e Basso, Capo Soprano Alto e Basso, Fondo Iozza, Manfria e Marchitello. Il coordinamento dei comitati di quartiere di Gela si è riunito sul discorso presso la propria sede per attenzionare lo stato dei lavori di approvazione e del regolamento sui comitati di quartiere con annesso bilancio partecipato. La proposta è stata depositata da tutti i comitati di quartiere lo scorso 14 maggio e ad oggi nel Consiglio Comunale nelle commissioni Affari Generali e Bilancio hanno ancora effettuato le operazioni propedeutiche per la discussione ed approvazione finale del regolamento. La città e i comitati di quartiere attendono oramai da mesi da parte della Sise Civica un segnale di attenzione verso le numerose emergenze cittadine. L'approvazione del regolamento, oltre che aprire importanti opportunità occupazionali, lancerebbe un forte impulso verso la partecipazione cittadina e quindi verso una gestione trasparente della macchina amministrativa. Il coordinamento dei comitati di quartiere, anche alla luce delle pressanti richieste giunte dalla cittadinanza, ha deliberato all'unanimità l'avvio di alcune iniziative di protesta clamorose già a partire dalle prossime settimane, nell'ipotesi in cui il Consiglio Comunale dovesse continuare ad ignorare le istanze della città, posticipando a data indefinita l'approvazione del regolamento sui comitati di quartiere. E adesso apriamo la pagina della cronaca giudiziaria, riferendovi di tre arresti eseguiti nelle ultime ore a Gela dalla Polizia. Manette anche per due giovani ladri che, approfittando della celebrazione di un matrimonio, hanno preso di mira l'abitazione dei genitori della sposa. Gli sposi stanno pronunciando il loro sì in chiesa tra tanta gente invitata e i ladri, a conoscenza di quanto sta accadendo, si precipitano in casa dei genitori della giovane donna che sta per unirsi in matrimonio, arraffando i regali di nozze. Bloccati dalla polizia, sono stati arrestati con l'accusa di furto in appartamento. Loro sono due ragazzi giolesi. Si tratta di Carlo Azzarelli, 19 anni, pregiudicato per reati contro la persona, stupefacenti a ricettazione, e di Armando Emanuele Ferrigno, 18 anni, incensurato. È stata una segnalazione anonima giunta al 113 a segnalare la presenza dei due giovani all'interno di un'abitazione di contrada a Scavone. I malviventi, dove aveva forzato una persiana, si sono introdotti in casa con il chiaro intento di trafugare tutti i legali destinati agli sposi. Gli agenti di polizia, prontamente intervenuti, hanno bloccato i due ragazzi mentre erano ancora sui balconi dello stabile. Sottoposte a perquisizione, sono stati trovati in possesso di diversi monili in oro appena rubati. Poco prima, avendo intuito che sul posto era giunta una volante, Azzarelli e Ferrigno hanno tentato la fuga sui tetti, disfacendosi di alcuni contenitori e altri oggetti. Adesso, su disposizione dell'autorità giudiziaria, i due ragazzi sono stati posti agli arresti domiciliari. Preziosa, sottolinea una nota del commissariato, la collaborazione dei cittadini nel segnalare, anche in forma anonima, la consumazione dei reati predatori che ha permesso di salvaguardare la proprietà degli sposi che non hanno visto così rovinata la loro giornata speciale e tanto attesa grazie al pronto intervento della Polizia. E nell'ambito dell'attività di prevenzione e repressione dei reati, sempre la Polizia ha arrestato Rocco Lamattina, a 36 anni, in ottemperanza al decreto di provvisoria sospensione cautelativa di misura alternativa emesso dall'Ufficio di Sorveglianza di Caltanissetta. L'uomo si è reso responsabile in più occasioni di violazioni delle prescrizioni imposte dalla magistratura. Denunciati i due 24 anni gialesi per possesso di Ashish, ad uno dei due è stata ritirata anche la patente di guida. La Polizia Amministrativa e Sociale, inoltre, ha eseguito controlli ai locali di intrattenimento del Lungomare e del Centro Storico. Passati ai raggi X e Senegozi, elevate due infrazioni e controllate 35 persone. Intervenite subito scongiurando tragedie. Il consigliere comunale di Forza Etaria, Salvatore Scerra, si rivolge al sindaco domenico messinese in merito al dislivello di quasi 30 centimetri della corsia destra della strada statale 115 Geraricata nei pressi di Montelungo. Il primo cittadino, dice Scerra, deve segnalare il grave distesto agli automobilisti e sollecitare i vertici dell'ANAS affinché si possa intervenire tempestivamente prima che inizi la stagione autunnale. Scerra ricorda che già fu presentato un esposto in procura da parte di Paolo Capici dell'Associazione H per accertare se Comune e ANAS avevano fatto tutto il possibile per rendere sicura e o comunque meno pericolosa la statale 115, il teatro di numerosi incidenti stradali mortali. Scerra invita ad una maggiore prudenza a tutti i cittadini che ogni giorno percorrono quel tratto di strada. Un protocollo d'intesa per rilanciare il lavoro e difendere la mano d'opera locale è quanto chiederanno all'amministrazione comunale di Gela, alle federazioni sindacali del settore edile per tentare di originare la crisi e dare respiro ai lavoratori edili tra le fasce più deboli della popolazione. La grave crisi economica di questi anni ha avuto pesanti ricadute su famiglie, lavoratori edili e imprese costretti a vivere sospesi tra l'angoscia della ripresa del comparto e la bancarotta familiare. La pioggia di milioni di euro che cadrà sulla città di Gela in merito al patto per la Sicilia rilancerà il tema delle opere pubbliche e del patrimonio edilizio ridotte allo stremo negli ultimi anni con il dimezzamento di appalti, lavoratori e imprese. Per Dalton Di Dio, della Fenea La Will, Francesco Iudici, della Fielca Cisle e Francesco Cosca, della Fillea Cigelle, gli investimenti pubblici rappresentano attualmente il soccorso tradizionale da portare al capezzale dell'ammalato per rianimarlo, considerato che gli interventi privati non sono sufficienti. Il mercato immobiliare è fermo, la domanda di natura non abitativa è debolissima, anzi inesistente. Il centro storico è in vendita. A riaccendere le polveri in questa città sono gli interventi previsti dal Patto per la Sicilia che potrebbero rappresentare un'occasione favorevole per le tantissime professionalità locali che meritano una tutela particolare perché diversamente le urla lanciate rischiano di trasformarsi in assoli durante una notte d'estate. Cosa si può fare? Evitare meccanismi incomprensibili e appiccicosi redigendo un protocollo semplice nei contenuti e non impenetrabile come la burocrazia che preveda per le aziende aggiudicatari dei lavori la possibilità di attingere dall'immenso patrimonio professionale edile che offre la città di Gela. Il protocollo punterà a sviluppare politiche di lavoro e sviluppo economico politiche ed erredditi e di contrasto alla povertà per mitigare le conseguenze discendenti dalla situazione socio-economica. Le federazioni sindacali del settore edile tendono a determinare le condizioni necessarie per avviare un processo di ripresa economica e occupazionale in questa città falcidiata da emigrazione continua e disoccupazione fuori dalla portata della nostra ragione. Scrivere a quattro mani il contenuto del protocollo significerà avviare un processo di modernizzazione di tutto il tessuto socio-economico a rendere il comune meno insondabile e aperto ai cittadini. Le federazioni sindacali del settore edile inoltreranno al sindaco del comune di Gela formale richiesta di convocazione perché, si legge in una nota, vogliamo rivedere la luce in fondo al tunnel. Se la convocazione non avverrà in tempi brevi si annunciano azioni di protesta. La sezione gelese di Fratelli d'Italia Alleanza Nazionale di Gela oggi sarà in Piazza Umberto I al fine di incontrare la cittadinanza proponendo un referendum propositivo su diversi temi importanti. Lo comunica il coordinatore Gaetano Minardi. È in edicola il Corriere di Gela settimanale indivenente di attualità politica, cultura e sport di fusione comprensoriale fondato e diretto da Rocco Cerro. Parla Fabrizio Nardo, il primo assessore cacciato dal sindaco messinese. Nello Lombardo lo ha intervistato di ritorno dal forum di Bratislava. La sua ricetta per Gela pianificare bene il suo futuro è il titolo d'apertura del giornale da oggi in edicola. Altro argomento di prima pagina è la rottura che si è consumata nell'ultima seduta consigliare in seno. al PD nasce un nuovo gruppo con ventura, biondo e maluzzo. Giulio Cordaro nella sua rubrica settimanale politicamente scorretto mette a nudo le incongruenze del piano sanitario varato recentemente dalla regione. All'interno articoli di attualità e cultura si parla di cinema, adorazioni di midollo osseo, sanità e pale eoliche e di altro. Lo sport con i servizi di Orazio Accomando sul gelacalcio e di Zeira Placenti sul Terranova. In ultima la pagina degli annunci economici gratuiti. Ci fermiamo, linea alla regia per la pubblicità. Ed eccoci, seconda parte del telegiornale da oggi al 25 settembre si svolge Match It Now, la settimana nazionale per la donazione di midollo osseo e cellule staminali emopoietiche. L'evento rientra nella cornice della giornata mondiale del donatore di midollo osseo che sarà celebrata oggi in tutto il mondo. Anche gelacende in piazza sabato 24 settembre in Viale Corte Maggiore a Machitella nei pressi dei Muretti. In collaborazione con la Croce Rossa e i VIP Clown di Caltanissetta e con il patrocinio del Comune i volontari di Admo Gela e di Adoces Sicilia Ollus accoglieranno tutti coloro che vorranno ricevere informazioni sulla donazione di midollo osseo e di cellule staminali emopoietiche. La pagina dello sport, il calcio, primo derby per il Gela in Serie D, domani la compagine guidata dal tecnico Pietro Infantino se la vedrà in trasferta con il Due Torri. Anche in terra peroritana saranno presenti i tifosi bianco-azzurri. Si gioca Gliaca di Piraino in provincia di Messina contro una squadra affamata di punti ed attualmente ultima in gradatoria. Domani il Gela se la vedrà contro un Due Torri che centublicherà le forze per ottenere un successo. È un test importantissimo. Siamo alla terza giornata del torneo di Serie D. Il campionato è lunghissimo ma bisogna continuare a far punti ovunque. E i bianco-azzurri del tecnico Pietro Infantino nelle prime riuscite hanno fatto il loro compito. Pari a Pomigliano e vittoria sonora domenica scorsa contro il Sersale. Domani però si tratta di un derby e i derby hanno sempre una storia ben diversa da tutte le altre partite. In questo momento stiamo lavorando molto su di noi per avere una quadratura come squadra come gruppo. Siamo contenti che in questi pochi giorni la squadra ha assimilato il pensiero del tecnico credo che punta molto sulla compattezza sull'umiltà sulla voglia di lavorare sulla voglia di sacrificio. La formazione che scenderà in campo domani in terra messinese dovrebbe essere quella che domenica scorsa ha travolto i calabresi dal Sersale. Ancora out Alma. Il gruppo sta lavorando tutti al massimo se non ci sono problemi fisici credo che gli undici che hanno iniziato hanno dimostrato di meritare la riconferma. Se lavorano in questo modo e fanno quello che si deve fare credo che meritano la riconferma anche se ci sono tre o quattro giocatori che stanno spingendo e sono molto contento per questo. Continuare sulla strada tracciata in queste due prime giornate di campionato è l'obiettivo del tecnico gelese. Non ci siamo mai posti dei limiti io credo che giorno dopo giorno dobbiamo lavorare per migliorarci tutti credo che questa sia l'aspirazione più importante. Ho detto domenica che noi non promettiamo niente alla gente ma solamente l'impegno il sudore la voglia di onorare questa maglia e credo che alla fine se ci sono queste componenti ci possiamo togliere grande soddisfazione. Per la trasferta di Gleaca di Piraino di domani i tifosi della curva Angelo Boscai hanno organizzato un pullman al costo di 15 euro escluso il biglietto stadio. per adesioni o informazioni rivolgersi alla cartoleria Pausa Internet di Via Venezia 316. E nel campionato di eccellenza il treno a Gera del neotecnico Serafino se la vedrà con la folgore Selinunte la gara da calendario avrebbe dovuto essere giocata a presti ma vista l'indisponibilità della struttura di contrada Giardinelli per i lavori di manutenzione sul rettangolo di gioco sarà disputata a Caltagirone al debutto i gelorossi sono stati battuti per 1-0 dalla Nissa sconfitta che è costata la panchina all'allenatore Angelo Vedda Anche già da questa mattina ha festeggiato la giornata europea dello sport come in tutte le piazze d'Italia si è svolto un flash mob tutto rigorosamente in contemporanea dalle 11 alle 11.04 L'iniziativa porta la firma del WEG l'Unione Europea di Ginnastica in città la manifestazione è stata promossa dalla Ginnastic Club di Walter Micicè Quando si tratta di sport la cosa più bella sia stare insieme e collaborare perché lo sport nel senso più bello del termine è condivisione formazione crescita e gioco di squadra noi della Snoopy diretta appunto dal professore Massimo Catalano abbiamo partecipato quest'estate alla settimana organizzata dall'ASI e anche stamattina in merito a questa bella manifestazione ci siamo perché quando si parla di sport è giusto che tutte le associazioni sportive della città si uniscano oggi è una grande occasione per Gela per le associazioni sportive gelesi entrare in un circuito internazionale appunto della settimana europea dello sport abbiamo avuto naturalmente una grande partecipazione delle associazioni e un grazie va soprattutto al promotore di questo flash mob che è Walter Micicè con la Ginnastic Club anche Gela anche la Sicilia come nazionalità italiana è scesa in piazza partecipando all'iniziativa dell'UEG Unione Europea di Ginnastica oggi si finisce in qualche modo la settimana europea dello sport e qui proprio in piazza Gela siamo scesi con questo flash mob verremo messi all'interno del circuito di questo mega vento europeo e quindi lo possiamo trovare nel web e comunque era un modo per condividere insieme a tutti i colleghi che facciamo parte di questa associazione che è l'ASI che fa a Capa Salvatore Spinello che ci permette di poterci unire in un unico gruppo e portare avanti ciò che più amiamo che è lo sport anche il nostro maneggio PEG la Gobbiviere è presente anche in questa occasione proprio per promuovere lo sport in generale e nel particolare l'equitazione dove appunto il nostro obiettivo è quello di dire lo sport fa bene lo sport è importante per crescere cerchiamo di avvicinare questi bambini e questi ragazzi allo sport ritorno in scena uno dei più attesi spettacoli dell'estate gelese il prometeo incatenato di Eschilo dopo l'acclamato successo di fine agosto all'acropoli location che ha ospitato la prima della tragedia Eschilea incantando oltre mille spettatori la rappresentazione torna domani alle 21.30 sarà questa volta a Piazza Roma ad accogliere la compagnia e il pubblico per la regia di Biagiopardo gli attori della sezione teatro del gruppo archeologico Geloi sono pronti a far rivivere il mito e a riportare in Auges un'antica tradizione oramai per Sagela quella della tragedia classica ricordiamo l'appuntamento domani alle 21.30 in Piazza Roma e in conclusione del nostro telegiornale vi ricordiamo che domani sera subito dopo il TG Silos intorno alle 21 andrà in onda il saggio della scuola di danza di Claudia Tranito abbiamo concluso anche per oggi vi auguriamo un buon fine settimana appuntamento alle prossime edizioni grazie a tutti